ben ritrovati a questo corso sugli script bash siamo giunti quasi a metà diciamo nella lezione numero 8 nella quale parliamo di una cosa molto importante ovvero le decisioni qui entriamo nella logica di programmazione le cose cominciano a farsi corpose il quadro incomincia a comporsi e avere un suo senso perché appunto il nostro scopo è riuscire ad avere tutti i mattoncini necessari per comporre il nostro script che abbia una certa intelligenza una certa efficacia per quello che abbiamo bisogno di fargli fare e allora inizio con una frase tra virgolette ad effetto non esiste programma senza almeno una decisione nel suo codice ovvero in questo in sostanza è vero se il nostro script bash ha una certa complessità diciamo chiaro che se usiamo uno script solo come tra virgolette una macro per ripetere una certa operazione molto probabilmente avremo dei comandi inseriti in fila uno dietro l'altro senza decisioni logiche senza niente di particolare però se il nostro script bash è un po' più ragionato un po' più complesso vogliamo fare qualcosa di un po' più corposo ecco che le decisioni diventano inevitabili questo perché perché le decisioni sono un costrutto che permettono di dare intelligenza al nostro codice perché perché a dipendenza della situazione che si verifica al momento che l'interpretazione del codice del nostro script cioè mentre viene eseguito quando arriva al momento di prendere una decisione il nostro script il nostro programma può prendere strade diverse a seconda della situazione che si presenta in quel momento e se la situazione può cambiare in quel momento appunto il nostro programma tra virgolette sembra intelligente perché riesce a prendere strade diverse e eseguire compiti diversi a seconda della situazione che si presenta vediamo cosa intendo allora prima di tutto cosa intendo con decisioni nel programma decisione vuol dire in pratica se una certa condizione si verifica cosa devo fare altrimenti cosa devo fare se questa condizione non si verifica in poche parole questo proprio ridotto in nuce una decisione logica in un programma è questo quindi se succede una cosa faccio questo altrimenti cosa faccio se non succede quella cosa ecco e come si traduce nella sintassi della nostra bash del nostro script bash si traduce con ovviamente delle parole inglesi ovvio manco a dirlo la sintassi quindi è questa if che vuol dire se la condizione che fra parentesi quadro messa qui fra puntini puntini puntine non è questo non fa parte della sintassi questo questi tre puntini sono stanno a come ellissi per la condizione che poi dovremmo effettivamente inserire quindi if se then allora allora cosa altri puntini perché qui ci sta la parte di codici che deve fare il nostro script se si verifica la condizione quindi if tal condizione questi tre puntini sono veri quindi si verificano allora fai qualcosa else che vuol dire altrimenti else fai qualcos'altro e poi fi fi che poi il contrario di if chiude il blocco di gestione il blocco logico di gestione della condizione cosa possiamo fare per verificare la condizione cosa possiamo usare cioè cosa mettiamo al posto di questi tre puntini se abbiamo a che fare con due valori numerici per esempio due variabili noi vogliamo confrontare due variabili a uguale a b a minore di b a maggiore di b eccetera eccetera abbiamo la sintassi prevede queste diciamo questi termini queste parole quindi sempre dall'inglese è naturalmente quindi meno eq che vuol dire uguale a eq è equal inglese ne not equal ne gt greater than maggiore di ge maggiore uguale lt less than minore di le minore uguale poche parole quando sappiamo che stiamo confrontando due valori numerici dobbiamo usare questa parolina in mezzo per dirgli voglio verificare se un valore uguale all'altro oppure se non è uguale all'altro oppure se uno è maggiore dell'altro oppure se uno è maggiore o uguale all'altro oppure se uno è minore dell'altro oppure minore o uguale all'altro tra un attimo sempre con il supporto del nostro script 08 della lezione 08 verifichiamo con degli esempi pratici vediamo di applicare questo che sto raccontando qua se invece abbiamo a che fare con delle stringhe ormai sappiamo cosa sono delle stringhe sono delle sequenze di caratteri allora è diverso diventa magari tra virgolette più facile da leggere da capire se due stringhe sono uguali usiamo l'uguale se due stringhe non sono uguali usiamo il punto esclamativo e l'uguale ecco punto esclamativo magari ingrandisco è il punto esclamativo che vuol dire il not in inglese quindi non uguale punto esclamativo non uguale poi se una stringa è minore di un'altra ecco quindi se più corta o se per caratteri dell'alfabeto risulta minore insomma se più corta diciamo che più facile da capire minore minore maggiore maggiore se una stringa è vuota questo è molto comodo da verificare senza usare comandi particolari si dice meno z che vuol dire vuota ecco qua se meno z una variabile contenente una stringa risulta vera come condizione quindi se se questo test di questa condizione risulta vero vuol dire che questa stringa effettivamente è vuota e noi può servire magari se il nostro scrivere richiede un parametro e noi non lo introduciamo quindi lasciamo vuoto quel parametro ci serve magari testare verificare durante il codice nel codice dello script se effettivamente abbiamo dato un parametro o meno meno n se la stringa non è vuota o ha una lunghezza di quindi il contrario dello z meno n vuol dire no c'è dentro qualcosa in questa stringa in questo variabile o questa stringa ecco operatori logiche queste sono confronti come dire singoli fra due valori o due valori numerici o due valori alfa numerici stringhe quindi due variabili uno uguale all'altro eccetera eccetera però il confronto la verifica di una condizione può anche essere più complessa cioè un confronto di più valori e quindi ci sono anche gli operatori logici cosa sono gli operatori logici ce ne sono essenzialmente due uno è il doppio end commerciale qui il doppio e come commerciale doppio e commerciale che vuol dire appunto e ecco entrambe le condizioni entrambe le condizioni devono essere valide ecco qui mi rendo conto che se qualcuno di voi non ha mai avuto che fare con la programmazione sta seguendo questo corso come una cosa totalmente nuova questo può essere un punto non così banale da capire immediatamente gli operatori logici e gli operatori logici vuol dire appunto che aggiungiamo la nostra condizione da verificare ulteriori condizioni ulteriori variabili e l'operatore e implica che nelle varie coppie di confronti di valori devono essere tutte validi questi questi confronti mi spiego meglio se verifico che la variabile a sia uguale a b alla variabile b e diamo per assunto che è vero io ho bisogno anche di confrontare la variabile c con la variabile d per dire mettiamo che abbiamo quattro variabili da confrontare allora io devo dire e voglio che tutte e due le condizioni siano vere quindi sia che a è uguale a b ma anche che c sia uguale a d devo unirle con qualcosa non posso mettere a meno e q b e poi cosa ci metto in mezzo di meno e q e scusate c meno e q di e quindi devo metterci in mezzo qualcosa per poter unire le due condizioni da verificare ecco lo vediamo anche nell'esempio comunque c'è un esempio se non erro dove lo uso qua in fondo lo vediamo qui qui nello script comunque è semplicemente un un una sintassi in più una parte di sintassi per unire più condizioni da verificare quindi a uguale a b e quindi per c end commerciale e c uguale a di allora se entrambe quelle condizioni sono verificate vuol dire che tutta la condizione è valida rispettivamente se vogliamo che almeno una delle due sia valida cioè non abbiamo bisogno che entrambe siano valide allora usiamo lo l'oppure che vuol dire se a uguale a b oppure c uguale a di allora per me la condizione valida e sufficientemente valida per poter fare che cosa per poter svolgere il codice nel allora nel den altrimenti se non è valida quella condizione andrò nelle ze non ho il dubbio di non essere stato sufficientemente chiaro è comunque magari se lo scrivo diventa più facile se vi mostro i comandi di esempio diventa più facile però magari questo visto che veramente un concetto che in sé non è complicato ma per chi non l'ha mai affrontato può esserlo magari vale la pena che io lo scriva lo accompagni le parole con qualcosa di scritto quello che ho appena detto è quindi poniamo che io abbia quattro variabili a b c e d con con integrati con scusate con salvati all'interno quattro valori diversi per esempio a uguale a 1 b uguale a 1 c uguale a 2 e di uguale a 3 ecco cos'è che ho appena spiegato se noi dobbiamo verificare che a sia uguale a b e c uguale a d qua dentro quindi se quella condizione è valida allora fai questa parte di codice nell'allora altrimenti fai l'else ecco quindi seguendo la nostra sintesi qui non scrivo proprio esattamente la sintassi ma voglio solo mostrarvi teoricamente cosa intendo col con la sintassi e oppure o quindi sto confrontando dei valori numerici e dico se a è uguale a b e c è uguale a d allora fai qualcosa altrimenti fai qualcos'altro ecco con questi valori sopra questa verifica dove andrà a finire vediamo un po a uguale a 1 b uguale a 1 quindi questa è vero a è uguale a b e io voglio che entrambe siano vere queste due condizioni quindi e verifico che c sia uguale a di quindi c uguale a 2 di uguale a 3 quindi questa non è vera allora il tutto quindi a uguale a b si c uguale a di no quindi una vera e una falsa tutta la condizione non è vera ma è falsa ovviamente perché entrambe non sono soddisfatte le condizioni quindi non entrerà nell'allora ma entrerà nell'else quindi farà le operazioni y y y se invece uso l'oppure quindi diamo un po uso l'oppure quindi semplicemente cambiando la e con l'oppure quindi la sintassi qua quindi non voglio unire le due condizioni ma dire che almeno una delle due o una o l'altra sia valida fai qualcosa altrimenti qualcos'altro quindi ripetiamo l'esercizio con i valori che abbiamo qua sopra quindi abbiamo a uguale a b si a uguale a 1 b uguale a 1 questa è valida come condizione oppure c uguale a di c uguale a 2 di uguale a 3 no questa non è soddisfatta ma questa si e lo oppure implica che è sufficiente che una delle due sia vera finché il tutto sia soddisfatto allora se il tutto è soddisfatto in questo caso allora andiamo a fare i comandi della bash che sono nel blocco den quindi allora qui e non questo ecco spero che così magari sia un po' più chiaro così come spero che magari seguendo e ragionando sopra al mio esempio qui riusciate a capire ancora meglio che cosa intendo con tutto ciò perché è importante per costruire il nostro script allora partiamo appunto con l'esempio come sempre andiamo a recuperare il nostro esempio e vediamo un po' ecco qua dunque il prima parte dell'esempio si ferma qua quindi seguiamo dall'inizio cosa è successo allora il solito clear poi verifica se il valore della variabile d è pari o dispari questo è un confronto fra valori numerici quindi noi abbiamo una variabile d di partenza che è 113 cosa succede? impostiamo un calcolo quindi aritmetica che abbiamo visto nella lezione precedente n, variabile n, la impostiamo a d diviso 2 la variabile m impostiamo all'n quindi quella appena calcolata la rimoltiplichiamo per 2 e poi le visualizziamo a video tutte e tre e poi facciamo una verifica se la variabile d iniziale 113 non è uguale alla variabile m quindi del risultato finale dei nostri calcoli allora se questa condizione è soddisfatta e vera quindi se d è diverso da m il valore della variabile è dispari perché cosa abbiamo fatto? sfruttando il fatto che la aritmetica semplice negli screen bash funziona solo con i numeri interi perdiamo i decimali quindi se d fosse pari dividendolo per 2 e rimoltiplicandolo per 2 riotterremmo d se è dispari perdiamo i decimali quindi per forza la variabile m è diverso dalla variabile d iniziale e quindi funziona in questo modo quindi d113 sappiamo che è dispari però vediamo che il calcolo diviso 2 e per 2 otteniamo 112 perdendo i decimali e quindi il confronto if della decisione ci dice che è dispari questo valore perché è dispari? perché abbiamo confrontato d con l'opzione non uguale eccola qua ne non uguale a m è vero che non è uguale perché 112 è diverso da 113 e quindi è soddisfatta la condizione della nostra decisione allora entra nel den nell'allora perché è vera questa condizione e quindi ci dice che è dispari ed è giusto fossero stati uguali ed i fosse stato pari sarebbe entrato nell'Elze in questa condizione nell'altrimenti perché non è vero che non sono uguali fossero uguali questa condizione di verifica della decisione non sarebbe soddisfatta sarebbe falsa e quindi sarebbe entrato nell'Elze e ci avrebbe detto che è pari infatti vediamo un secondo esempio il contrario se vogliamo un po' speculare al primo d questa volta sappiamo che è pari 1124 fa i suoi calcoli di iso 2 per 2 ci ritorna di nuovo 1124 perché è pari e ci dice che il valore è pari abbiamo testato questa volta che d sia uguale all'm il risultato finale del calcolo meno eq vuol dire uguale ecco qua meno eq uguale e quindi è soddisfatta la condizione perché d 1124 uguale a m 1124 e quindi se si rientra di nuovo nel den 1124 uguale den il valore del valore è pari se torno un attimo al primo esempio giusto per riciclare il primo esempio e farlo entrare nell'Elze non del den quindi interrompo lo script cambio in 114 il primo valore solo per mostrarvi che può entrare anche nell'altrimenti quindi faccio ripartire lo script ed ecco qua che questa volta col 114 diviso 2 per 2 teniamo che d è uguale a m perché è pari e in effetti ci dice il nostro programma che è pari perché? perché abbiamo rifatto il calcolo cambiando il valore di d e la nostra verifica della decisione ci dice d non è uguale a m non è vero d è uguale a m quindi non è soddisfatta allora non entra più qua nell'allora per dirci che dispi ma entra nell'Elze nell'altrimenti per dirci che pari ecco qua tutto qua ecco vedete quando io parlavo di intelligenza del programma perché con le decisioni si introduce una certa intelligenza nel programma perché a dipendenza della condizione di partenza cioè in questo caso del valore di d il comportamento del nostro script bash cambia perché a dipendenza del valore di d cambia il la verità o meno di questa condizione quindi questa condizione può essere vera che i due valori sono diversi così come può essere falsa perché i due valori sono uguali quindi cambia il comportamento del codice e vedete con questo intendo intelligenza certo non stiamo parlando di intelligenza artificiale però capite che in un esempio effettivo e non scolastico come questo dove voi dovete verificare una certa condizione e non sapete a priori quale condizione si verificherà o meno nel vostro codice vedete che il programma si comporta voi prevedete già a priori programmando il vostro script bash di farlo comportare in modo diverso a seconda della condizione ecco questa è proprio un'intelligenza diciamolo pure perché no ecco poi abbiamo già visto il secondo esempio che ci dà che pare pure pure esso e poi si è fermato qui lo script adesso questo era un confronto fra valori numerici avete visto che ho usato questo tipo di sintassi con i valori numerici quindi con queste paroline che vogliono dire uguale minore maggiore eccetera eccetera qui vediamo le stringhe tra l'altro prima che me ne dimentichi vedete che la sintassi è quella che ho indicato qui if parentesi quadra tra parentesi quadra e la condizione then codice else codice e fine del blocco qui lo vedete if che per essere letto in modo più facile non è scritto tutto su una riga ma ho preferito scrivere if then poi indentato con un tabulatore il codice che può avere anche più comandi qui per intenderci possono esserci quanti comandi vogliamo fino all'else vale tutto l'allora quindi dal then in avanti tutto codice per l'allora qui può essere anche tantissimo codice non solo un comando solo solo per intenderci poi l'else è la stessa cosa qui possiamo avere tantissimo codice qua dentro nel blocco else nel blocco altrimenti e poi finché non arriviamo a chiudere l'if con il fi per lui vale o l'allora o l'altrimenti è tutto codice che fa parte dell'if e quindi poi lo chiudiamo con la parola contraria fi if si chiude col fi ecco e altra particolarità l'ultima è che le variabili quando vengono utilizzate nella nell'interrogazione nella nella decisione nella condizione ecco nella condizione di decisione vengono messe fra virgolette doppie vedete questo per evitare problemi magari di spazi nelle variabili alfanumeriche naturalmente ma anche per quelle numeriche male non fa metterlo fra parentesi scusate fra virgolette doppie che confinano la variabile quindi non ci sono dubbi quando viene interpretata dal motore non ci sono dubbi che qua dentro il dollaro di vuol dire proprio il valore di questa variabile confinata fra le due virgolette gli spazi qui non sono messi per per bellezza per estetica del codice ma ci vogliono proprio se non ci fossero questi spazi il codice darebbe errore quindi lasciate sempre lo spazio fra un elemento e l'altro della della condizione che state scrivendo quindi parentesi quadra spazio prima variabile primo elemento del confronto la parola chiave di confronto in questo caso non uguale secondo confronto spazio e chiusa la parentesi ecco questo proprio come scritto qui non è una scelta estetica ma è proprio che ci vuole scriverlo così mentre il den con l'indentazione qui ecco potrebbe funzionare anche così come pure così questa sì che è una scelta diciamo estetica per leggere meglio il blocco di codice mentre qua sopra no siamo obbligati a scriverlo così ecco poi la seconda parte di questo script a supporto della lezione ci mostra degli esempi per le stringhe quindi confrontiamo dei valori alfanumerici e non più dei numeri quindi faccio enter e voilà allora partiamo con tre valori quindi una stringa s1 che contiene paperino la stringa s2 zio paperone la stringa s3 di nuovo paperino primo esempio naturalmente qui ho stampato i valori di partenza primo esempio confronto se la stringa 1 è uguale alla stringa 3 quindi con l'uguale vedete che la sintassi non cambia praticamente niente dai valori numerici l'unica cosa che cambia è il termine in mezzo il termine di confronto che qui è proprio uguale mentre nei numerici sarebbe meno eq allora uguale la stringa 1 è uguale alla stringa 3 vediamo un po' paperino paperino dovrebbe dirci di sì in effetti ci dice che le stringhe s1 e s3 sono uguali quindi den allora ecco vedete che qui altra particolarità non c'è il blocco else altrimenti perché qui in questo caso ho deciso che non mi serve non è obbligatorio mettere l'else perché altrimenti non è detto che si verifichi mai e non è detto che mi serva in un blocco di verifica di condizioni di decisioni if quello che è obbligatorio è almeno un allora perché se verifico qualcosa se testo una condizione se la verifico vero falsa che sia almeno il vero quindi l'allora deve esserci non necessariamente deve esserci l'else cioè l'altrimenti in questo caso con le stringhe vedete che non ho mai usato l'else mai ho sempre usato solo if se allora fine se allora fine se allora fine sopra invece per ovvi motivi dovendo testare un valore che può cambiare da una condizione all'altra ho dovuto mettere se allora altrimenti se allora altrimenti in questo caso no quindi l'else è opzionale non è detto che serva dipende dalla vostra logica che state costruendo allora dunque dicevo primo esempio stringa 1 uguale stringa 3 sì paperino uguale a paperino poi secondo esempio stringa 1 not punto esclamativo uguale che vuol dire non not uguale stringa 2 è vero che la stringa 1 è diversa dalla stringa 2 sì paperino è diverso ad azio paperone effetti ci dice che non sono uguali terzo esempio ecco qua ho voluto introdurre la verifica di una parte delle due stringhe quindi la stringa 1 dal carattere 0 al carattere 2 quindi i primi tre caratteri è uguale alla stringa 2 dal carattere 4 quindi dal quinto per due posizioni hanno la parte PA in comune sì o no? sì ecco vedete qui ho testato dei pezzi degli spezzoni di stringa e andiamo su a verificare nella fonte dei nostri dati quindi dico da 0 2 quindi 0 per due caratteri PA i primi due caratteri della stringa S1 è uguale a i caratteri PA della stringa S2 quindi partire dalla quinta posizione per due 1 2 3 4 5 per due esattamente PA è uguale a PA e quindi ci dice sì in effetti le stringhe S1 e S2 hanno la parte PA in comune andiamo avanti qui uso la sintassi particolare per verificare se una stringa è piena vuota in poche parole quindi la stringa S1 contiene dei dati non è vuota in effetti non è vuota la stringa S4 è vuota e ci dice che la stringa S4 è vuota o inesistente perché non ho impostato una stringa una variabile S4 quindi nella memoria del nostro computer in questo momento la variabile chiamata S4 non ci torna nulla perché non esiste non è impostata non è occupata nella memoria del nostro pc e quindi ci dice meno Z che è vera è vero che è vuota oppure inesistente ecco questo lo deduciamo noi che se è vuota può essere esistente ma vuota oppure inesistente e ho scritto così gli ultimi due confronti minore minore bisogna metterlo in questo modo sintatticamente quindi diciamo la stringa S1 è minore della stringa S2 è più corta in poche parole sì la stringa S1 è più corta della stringa S2 vediamo Paperino è più corto di Zio Paperone bene sì la sintassi qui impone una backslash quindi una barra rovesciata per non far interpretare in altro modo il carattere minore ecco famoso deviazione dell'output in questo caso dobbiamo usare backslash minore per farlo interpretare come si deve all'if e non altrimenti rispettivamente il maggiore quindi la stringa S2 maggiore rispettivamente più lunga della stringa S1 certamente Zio Paperone più lungo di S1 e poi qui ho messo anche un end cioè qui è una doppia condizione testata quindi prima condizione si chiude qui verifica che S2 sia maggiore di S1 e poi dico voglio che contemporaneamente sia valida un'altra condizione che la stringa S3 non sia vuota quindi vedete n verifica che la stringa non sia vuota la stringa S3 è vero che non è vuota certo perché contiene Paperino quindi queste due condizioni sono contemporaneamente valide nello stesso tempo allora può entrare nel den nell'allora perché sono valide tutte e due e in effetti mi ritorna la stringa S2 più lunga della stringa S1 la stringa S3 non è vuota perché è vera la condizione non fosse vera ci vorrebbe un else per gestire questa condizione doppia naturalmente di end o di or ce ne possono essere di più aggiunti con le loro belle parentesi naturalmente perché end e or possono incrociarsi bisogna anche mettere le parentesi per farle interpretare nell'ordine giusto eccetera eccetera può essere anche più complicato di così ovviamente un if però ecco in questa lezione ho voluto mostrarvi un altro mattoncino importante per costruire il nostro codice bash che sono le decisioni ecco che appunto fanno reagire il nostro script in maniera diversa a seconda delle condizioni che si trova in quel momento si trova davanti a dover gestire in quel momento quindi dà una certa intelligenza al nostro codice ecco con questo ho terminato anche questa ottava lezione vi do appuntamento alla prossima un saluto ciao ciao